Gli viene dato un primo punto di accoglienza, dopodiché sappiamo perfettamente che sono in pochissimi quelli che vogliono rimanere in Sardegna, sono persone che stanno cercando ricongiungimento con famiglie, che il più delle volte sono in Francia, in Germania, in Svezia, in Norvegia. Mille migranti circa, sono 963, è un numero considerevole di persone che sbarcano per la prima volta a Cagliari, perché il più grosso numero è stato circa 800 un mese fa, ma la macchina dell'emergenza, come vedete, sembra sia funzionando. Ci sono 69 minori, poi ci sono delle donne che sono incinte, una ventina di donne incinte. Come fanno via loro? Noi siamo in diretta, quindi tutto quello che lì sta dicendo si sente oltretutto. a posto, chi? Sempre no, sono sempre...